bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo promo chiamiamolo così io sono xyuder e io sono la pami allora ragazzi chi ci conosce sa che questa è la nostra intro chi non ci conosce è assolutamente invitato a venire ad incontrarci e a giocare con noi all'euronics di broni in provincia di pavia stava dicendo brescia perché è un po come la ruota della fortuna no in provincia di pavia ragazzi dentro l'euronics di broni troverete quattro postazioni da gaming per giocare insieme a scacchi a briscola a fortnite ragazzi quattro postazioni per un totale di divertimento incredibile ragazzi non mancate dalle ore diciamo che l'evento inizia l'evento ufficiale delle 15 e 30 noi siamo lì per le due e mezza noi siamo lì un po prima per fare le foto con voi quattro ore piene di gioco quattro ore di gioco ragazzi a rotazione quattro postazioni non manca che la tua presenza quindi mi raccomando porta i tuoi genitori si devono andare a fare un bel giro portami a vedere lo xuderino e la pamina non mancare noi ci vediamo domenica sabato sabato è vero sabato perché è di sabato ciao ciao